Amici e amiche di LegaNerd, bentornati. Io sono Alessio e sono il vostro trocretatore scientifico di Eureka. Prima di tutto iscrivetevi al nostro canale di YouTube, l'abbiamo già detto un botto di volte, ma non c'è problema perché dovete assolutamente non perdere nessuna notifica, quindi attivate la campanellina. Bando alle ciance, in 5 minuti vi spiegherò chi è la Dama Misteriosa. Parliamo di Dama Misteriosa, non parliamo assolutamente di thriller, di horror o di altro, ma parliamo di Egitto. Ogni volta che entriamo nel mondo dell'Egitto, il mondo del mistero praticamente si apre. Insomma, da quando ci sono stati scoperti i vari siti archeologici egiziani, il mistero è sempre stato insito in quelle scoperte, perché comunque effettivamente l'Egitto rende tutto ciò che viene scoperto un qualcosa di assolutamente mitologico e assolutamente misterioso. Ma questa storia della Dama Misteriosa è una storia abbastanza particolare. Intanto partiamo al presupposto che non è vero che in Egitto è stato tutto scoperto, perché ogni volta che diciamo questa citazione, un archeologo arriva e ci scopre un altro pezzo di storia, un altro pezzo di dinastia e un'altra parte importante da cui studiare, da cui prendere spunto per scrivere altre pagine di documentazione per quanto riguarda il mondo dell'Egitto. Allora, la Dama Misteriosa è un'antica mummia egiziana con ancora il feto in grembo, ed è la prima scoperta di questo tipo, per di più avvenuta in un modo abbastanza particolare. Particolare perché? Perché all'inizio gli archeologi pensavano che non si trattasse di una donna, pensavano che si trattasse di un sacerdote, soprattutto riferendosi ai geroglifici che si trovavano all'interno del sarcofago. Esaminando invece tutte le termografie e un'analisi ovviamente più appropriata di tutto quello che c'è stato all'interno di questa scoperta, hanno effettivamente convenuto che non era un sacerdote, non era assolutamente un uomo, ma era una donna con il feto ancora in grembo, e proprio per questo l'hanno chiamata Dama Misteriosa. Il mistero è ovviamente insito nel mondo dell'Egitto, da che mondo è mondo l'Egitto è sinonimo di mistero, ma ancora di più soprattutto su questa ricerca perché è la prima scoperta di una mummia ancora incinta, cioè rendiamoci conto di quello che cosa è stato trovato, e ancora quanto ancora dobbiamo trovare sotto quelle sabbie. Ovviamente il fatto che abbiamo trovato una donna incinta ancora mummificata ci spinge con un'altra domanda che chiaramente è abbastanza naturale, soprattutto riferita al mondo della spiritualità egiziana. Gli egiziani, secondo voi, credevano che i feti non nati potessero andare nell'aldilà, oppure è una singolarità il fatto che ci fosse una mummia appunto, una donna ancora incinta e mummificata? La storia di questa mummia è una storia abbastanza particolare, perché non è che ovviamente è nata oggi o è stata scoperta oggi. Questa mummia è donata all'Università di Varsavia nel 1826, questa mummia è stata studiata molto a lungo. Attorno agli anni 20 e nei primi anni 900, la traduzione dei suoi geoglifici e del suo cartonnage avevano fatto supporre che questa fosse appunto la mummia di un antico sacerdote. Fu intorno al 2016 che si iniziò a supporre che non fosse un sacerdote, in quanto hanno iniziato ovviamente ad utilizzare le termografie. Praticamente 100 anni dopo i primi studi di questa mummia e quali furono ovviamente le prove di questo cambio sessuale da sacerdote a donna incinta? In primis la corporatura e ossa troppo piccole e sottili e anche ovviamente la presenza dei seni. Ma allora perché fu pensato che all'inizio questa mummia potesse essere un sacerdote? Semplicemente perché appunto quel sarcofago era comunque riferito alla tipologia artistica e creativa di un sarcofago classico da sacerdote. Ovviamente questa mummia è stata inserita in questo sarcofago per un motivo ben preciso, probabilmente proprio per la sua preziosità. E ovviamente la preziosità a questo punto è data dal feto che si trova nel grembo della donna. Purtroppo non siamo riusciti a capire chi fosse la donna, né tantomeno se venisse da Tebe. Tebe è stato il posto dove è stato trovato il sarcofago, però probabilmente possiamo iniziare a supporre che era una donna abbastanza importante perché comunque c'erano dei monili, c'erano comunque degli oggetti abbastanza preziosi. Insomma, sappiamo che oggetti preziosi e di tutto un crisma ovviamente rendono la mummia, in questo caso la persona, di alto rango. Quindi probabilmente non era né uno schiavo, né una schiava ovviamente, né una persona di basso o medio oceto. Ecco, quindi probabilmente era appunto una persona abbastanza importante. Purtroppo non sappiamo ancora la causa della sua morte, ma appunto il team che ha scoperto e che sta lavorando a questa mummia sta iniziando ovviamente ad analizzare tutti i tessuti molli conservati appunto all'interno del sarcofago, perché ovviamente degli indizi potrebbero comunque starci all'interno di questo sarcofago e all'interno anche delle analisi di queste parti di tessuto. Ovviamente tra le cause di morte di questa giovane donna potrebbe esserci la stessa gravidanza, la stessa gravidanza che la rende così unica nel panorama dell'Egitto, perché comunque all'epoca le gravidanze erano tutte abbastanza pericolose. Quindi potrebbe starci che effettivamente la causa di morte principale di questa giovane donna, della dama misteriosa, è stata proprio appunto la sua gravidanza. Quindi per chiudere, dopo questa piccola news dedicata al mondo dell'Egitto, perché ci piace così tanto l'Egitto, l'archeologia e il mistero, fate un bel like se vi è piaciuto questo video e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!